Punto numero 2. Crema, città murata. Le cartografie storiche di Crema ci descrivono una città con forti rapporti con le acque circostanti. A partire dal Medioevo, il mitico lago Gerundo, una grande palude che si estendeva dall'Adda all'Oglio, e al cui interno si trovava l'insula Fulcheria, cioè l'antica Crema. La città mostra un'organizzazione architettonica tipica di una città murata. Evidente è la diffusione di numerosi centri abitati intorno alla città e l'elaborato reticolo di strade e rete irrigua che alimentava anche i mulini. Le roge convogliavano le acque presso le mura per realizzare il sistema difensivo. Nella gestione delle acque del fiume Serio, era necessario porre attenzione al pericolo che le piene del fiume potevano causare al territorio. Le piene, poi, divenivano motivi di lotta, in quanto a seguito del cambio di percorso dovuto alla chiusura di vecchi bracci e l'apertura di nuovi, si rendevano disponibili nuovi terreni per l'una o l'altra delle sponde del fiume. Quella che vediamo è una delle più antiche rappresentazioni cartografiche del territorio cremasco. La carta fu stesa probabilmente per fini militari, come si rileva dalla precisione con cui sono riprodotte le fortificazioni cittadine e gli altri elementi difensivi. Interessante è la rappresentazione delle diverse specie di volatili diffuse nel mosso. Già in questa mappa è bene evidente la ricchezza dei corsi d'acqua. Crema risulta essere il luogo di incontro e di controllo di questa complessa rete idraulica. Il confine del territorio cremasco è segnalato da una tenue linea rossa. In questa mappa sono evidenti alcuni caratteri del territorio cremasco. La grande diffusione di centri abitati intorno alla città, l'aspetto di città murata, di cui andava famosa Crema, la rete stradale e la rete idraulica. Da notare la dimensione già in parte ridotta del mosso e le numerose rogge ricavate dalla sponda est del Serio che irrigavano la parte orientale del territorio cremasco e a sud la zona compresa tra le due valli del Serio. Questa carta, oltre ad evidenziare la centralità di Crema rispetto alla rete esterna delle acque, ci fornisce indicazioni sulle rogge che correvano all'interno delle mura venete e che probabilmente delimitavano le antiche mura federiciane. Le rogge interne svolgevano un'importante funzione economica e strategica. Lungo esse erano posti dei mulini che potevano garantire la produzione di farina anche in caso di assedio. Il disegno che stiamo vedendo, in inchiostro e acquerello, sprovvisto di leggenda ma ricco di annotazioni, presenta una veduta delle acque del Serio tra i territori di Mozzanica e Castelgabbiano. Il fiume aveva da poco deviato il proprio corso, abbandonando il vecchio alveo. La carta fu realizzata per evidenziare le opere realizzate degli abitanti di Mozzanica, a pregiudizio degli abitanti del cremasco, cercando di riportare il fiume nel vecchio letto con la costruzione di opere di arginatura e di deviazione delle acque. In tal modo, i terreni che erano divenuti cremaschi sarebbero stati nuovamente annessi allo Stato milanese.